Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red Come vedete oggi siamo su Crusader Kings 3, episodio 4 dove ci siamo fermati con la grande indipendenza del Friuli per la sua, lotteremo per la nostra libertà, fino alla fine, fino all'ultimo uomo che avremo Per ora ragazzi, come vedete, siamo in vantaggio visto che l'impero è impegnato nella conquista della Franconia orientale noi abbiamo la possibilità di ribellarci e fondare il nostro regno intanto possiamo andare con play, abbiamo con noi gli aragonesi e i francesi che fino a 3-4 anni erano nemici, sono stati nemici e adesso sono alleati con noi per questa battaglia speriamo che non succeda nulla e che non si ammazzano tra loro perché tecnicamente nella vita reale potrebbe succedere ma in questo caso speriamo di no, assolutamente allora, vediamo un po', io direi di narrare la nostra leggenda perché tu dici adesso di narrare la tua leggenda? adesso che siamo in guerra adesso che siamo in guerra possiamo approfittare di raccontare la nostra leggenda dell'uomo che ha vinto per l'indipendenza colui che ha fondato una nuova fede colui che ha fondato la cultura frilana si spera intanto i nostri sedi continuano le nostre conquiste continuano sempre di più conquistiamo più territori possibili speriamo che ognuno vada per cazzisù non mi mette, ecco grazie gentilmente ognuno vada a conquistare qualcosa di diverso se arriverà l'esercito nemico qui lo affronteremo in viso aperto ma intanto noi c'è stata una lita fra i bambini oggi Alexandra stava cercando di predicare in mezzo agli altri bambini più piccoli finché non è diventato il bersaglio di una piccola zuffa Conte Lutepold è intervenuto dal fatto che è possibile cercare di proteggere bravissimo non tirarti mai indietro da un sfudo mio caro figlio Lutepold bravissimo mio figlio ha capito tutto dalla cosa coraggioso bravissimo bravissimo nostro figlio Allora è in inglese ragazzi abbiate pazienza non capisco un cazzo tiene il tratto forte Inca nostro figlio nostro figlio mamma mia ragazzi lui è il vero erede al trono più forte anche di noi a quanto pare anche se noi siamo giovani siamo giovani siamo giovani siamo ancora nella fascia giovane dell'età nostra età nostro figlio ovviamente sta crescendo immagino che sia a palazzo ah no invece è lì strano come lo educhiamo questo bambino? difensore della fede oh perfetto siamo quasi a sbloccare il teologo abbiamo i punti per fondare la fede però un obiettivo alla volta intanto adesso il vescovo è uscito dei brani sulla virtù sacra dovrei dimostrare sempre adesso sul perdono sul perdono divino intanto un obiettivo alla volta importante adesso dichiarare l'indipendenza del nostro regno mostrare al mondo la nostra potenza anche se piccoli però così noi finiamo domani la guerra secondo me è meglio se andiamo direttamente alla capitale e conquistarla aumentiamo un po' la velocità perché sta scendendo un po' il war score quindi forse è meglio è meglio andare direttamente a casa del nostro grande imperatore siamo tutte le truppe insieme guerra dichiarata a tua signora chi? ah qualcuno ha dichiarato guerra al nostro signore bravi ribellatevi Ursula bellissimo questo nome so solo che abbiamo 10 miliardi di figli che non è un male per noi eh non è per niente un male abbiamo tanti figli maschi siamo messi abbastanza bene poi troveremo un buon partito per il nostro per il nostro futuro partito eh ragazzi arrivare alla capitale ci costa un sacco di manpower mi sa forse è meglio conquistare anche perché qua si sta pure i ribelli cioè porca puttana che bordello cioè noi conquistiamo i territori e questo ah pensavo che la Francia fosse in guerra civile fortunatamente no stiamo perdendo un po' di uomini mano ferma sempre in inglese non deve stare a leggere che non capirò quasi nulla sono molto sincero io ho un problema nell'imparare le lingue ragazzi abbiate pazienza accorto aiii oiii chi? no non l'abbiamo avuto mannaggia che sfiga allora occupiamo un po' di truppe e poi andiamo direttamente alla capitale facciamo conquistare qualche altro territorio qua fuori poi andiamo verso la capitale ragazzi siamo obbligati sennò questo non cederà ai territori nel nome del nostro della nostra indipendenza è solo un gatto non pede coglioni dai sempre a lamentarvi abbiamo recuperato un po' di truppe io direi di assediare la capitale e lo so che è obiettivo di guerra difeso e ci vogliamo arrivare alla capitale sai però abito un attimo dall'altra parte del mondo allora gli cervi maschi al mio vassallo si non ha conosciuto per il suo interesse per la cacciagione porta notizie di bestie avvistate nel mio regno interessante interessante ragazzi potrebbe essere utile per noi vediamo se riusciamo a fare progressi facendo soldi poi altro volevo diventare amico ma mi sa che non si diventa così amici dovrebbero fare come su Cuse de King 2 c'è proprio la funzione per diventare amici non capisco perché qua le cose già le sanno io dico perché farle in ritardo dai sediamo sta capitale lussurioso beh dai lasciamogli lussurioso al nostro caro figlio non so quale dei tanti figli ha avuto lussurioso il barile rubato beccato questi due nascosti nella dispensa il mio l'ecco ti lasciando dietro il mio figlio era ah ok hai fatto bene ad astenerti dal bere bravo si insegna a non bere i nostri figli assolutamente non si insegnano queste cose brutte e negative capitale potrebbe cadere chiama nostra figlia Gisela vai chiama nostra figlia Gisela come voi il coraggio implacabile vediamo come la prende solito evento eccellente eccellente allora raga non so se voi sapete come si diventa amici effettivamente con le persone però magari spiegate non c'è una funzione magari che non ho capito potrei ottenere per lo stile di vita e ruota vai organizza un fidanzamento Gisela e Von Mock no eh dobbiamo convocare il medico vai vai ottiene prevenzione dell'epidemia minore perfetto ragazzi ottiene tratto volubile boh da scema abbiamo già lo stress troppo alto qua a finire che andiamo a combattere contro le truppe del nostro nemico è il momento di vederci in battaglia contro il liudo 2 ottiene tratto medico novizio minca e di mica male medico novizio piccolo incremento della salute minca tipo muore di malattia palesemente teologo sbloccato adesso direi un po' di basarci sull'economia così possiamo controllare più terre su vabbè no economia però avete capito cosa intendo e andiamo a fare questa battaglia che è fondamentale per il nostro trono per la nostra indipendenza vai per il friuli ragazzi domineremo sta battaglia non finirà mai hai appreso il segreto armante di bernando ah perfetto eppure è pure l'amante c'ha questo te ne ti rendi conto qui l'indipendenza ce ne vuole ancora e dobbiamo aspettare la resa conquistiamo altri territori tanto comunque l'esercito è stato oh come abbiamo catturato un personaggio di questo per non avere pull score appositivo ah no abbiamo catturato qualcuno no non abbiamo catturato nessuno cioè prendete conto che sfiga che abbiamo aspettate ma stia contro vai fai quello che vuoi fai nascere una leggenda aspetta come si faceva ah giusto sono stupido ragazzi mi sono dimenticato quanti soldi abbiamo vabbè si dai duca luthpold ma è bellissimo il fatto che si muove duca luthpold di friuli è nato dalla stessa carne dallo stesso sangue di duca luthpold di friuli grazie al potere naturale di questo grande lignaggio non c'è mai stato alcun dubbio che lui avrebbe raggiunto grandi traguardi la mission pellegrino del mondo ma è bellissimo la missione di luthpold da parte di Dio era chiara lui doveva compiere dei miracoli tutti i fedeli cristiani tengono duca luthpold di friuli nei loro cuori ma nessuno ha compreso che i miracoli di luthpold dovevano ancora compiersi ma va bene non possiamo tradurre non c'è la traduzione le strade dei fedeli sono state percorse dagli empi e con una lama benedetta dall'onnipotente luthpold li ha scacciati tutti ma le bestie selvagge e serpente continuano a vagare sul sentiero e a far del male ai fedeli quindi luthpold ha estratto il suo strumento l'ira e ha incantato quelle creature di Dio allontanandole dalla sua terra luthpold ha lavorato instancabilmente per tutti i fedeli cristiani e ha combattuto i servitori di satana qui sulla terra e al fine ha vinto il piano divino si è compiuto lui ha vissuto una vita di grande onore e pietà mamma mia ragazzi mamma mia che onore che onore essere ricordato quasi come un dio e pensa la cosa bella è il collegamento che ci faremo fonderemo la nostra fete sul luthpold la fede del friuli ragazzi la grande fede vai proviamoci niente ho speso ci ho provato ci ho creduto in quelle delle carte è quasi finita la guerra l'indipendenza è vicina il problema all'inizio Vilfredo considero fatto vai se va di merda qualcosa vi giuro li sparano andiamo a battere l'esercito di questo imperatore malvagio vuole formare l'impero malvagio ottieni ho preso le costruzioni per 10 anni ok vabbè questa è la classica il fatto di migliorare le strade le costruzioni ci sta ci dà la possibilità di la capitale andiamo tutti insieme per distruggere l'impero oscuro di Lotharingia che vuole invadere tutti i regni e dominarli minchia quante guerre che ci sono in corso mi sa qualcuno quant'è non è un bene ma necessario madonna mi stanno facendo spendere soldi che mi servono no che succede madonna mia no ti giuro penso che stiamo perdendo la battaglia ti giuro di proprietà della corona ovviamente è certo che devo essere proprietà di un'altra persona finalmente ragazzi imponi richieste imponi richieste ragazzi finalmente siamo diventati indipendenti ragazzi siamo diventati indipendenti e possiamo creare il titolo crea il regno di Croazia lasciate che vedano il loro nuovo re ragazzi in quanto re avete nuovi doveri e responsabilità adesso ci aspetta che voi teniate regolarmente delle udienze accorte risolvendo le controverse del regno rendendo partecipi i vostri cortigiani alla vostra routine quotidiana il resto già sapete è inutile che ve lo legga adesso sei un potente re ragazzi mamma mia adesso sono un vero re e abbiamo già i primi due stendardi prima di partire con la roba un attimo di pazienza che cerchiamo lui ci vuole benissimo ci vuole tanto bene quindi siamo a posto finalmente siamo un vero regno finalmente ragazzi siamo un vero regno dovremo creare delle future truppe ma non adesso che siamo un po' poveri disponiamo l'unione e dieci isola la capitale isola ma c'è una malattina nella nostra area vabbè ancora non è in capitale se prima è in capitale scappiamo allora 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 intanto grande papa niente niente sono è povero il papa è più povero di me ragazzi gli è arrivato il momento che tu sia maledetto è scappato cazzo è riuscito a scappare è il momento di creare il vero però regno noi andiamo a modificare la bandiera e lo scriviamo friuli friulani ovviamente il colore del friuli ragazzi un bel blu un blu sai che mi ricordo mi pare blu ok dovrebbe essere così all'incirca poi inizia da zero anche lo scudo dobbiamo trovare lo scudo vero prima di tutto è tutto un colore ed è blu speriamo di trovare effettivamente quello che ci interessa vediamo se lo troviamo animali dovrebbe essere non so se si trova in animali effettivamente però se si trova in animali dovrebbe essere una cosa simile tipo non me la ricordo bene aspettate un attimo lo devo cercare ragazzi abbiate pazienza ecco ora mi sono ricordato è tipo una cosa del gem ma non so se lo troveremo tipo così dovrebbe essere ma non so se lo troveremo non credo che ci sia la bandiera ufficiale del friuli in questo gioco dico non credo perché potrebbe esserci come non potrebbe esserci ma tecnicamente dovrebbe essere qua sopra sono questi gli uccelli cerchiamo intanto cerchiamo magari la troviamo un po' difficile eh ragazzi è difficile mi sa che useremo uno di quelli che magari gli assomiglia di più tipo dovrebbe essere cioè non c'è un'aquila più che altro è quello il discorso perché sarebbe un'aquila non credo ci sia controlliamo bene magari mi è saltato questo è quello che si avvicina tecnicamente di più sono sincero quindi metterei questo ovviamente ragazzi per forza è quello che si avvicina di più come simbolo ecco beh dai abbiamo trovato la bandiera ragazzi abbiamo trovato anche la bandiera e finalmente ragazzi il frioli ha finalmente la sua bandiera il regno del frioli è nato ora effettivamente dobbiamo ah ma c'è la bandiera dell'aquilea eh ma no non è questa non sarebbe questa vabbè però fa niente è diverso o meno dalla allora cultura cisalpina io non posso abbracciare la cultura cisalpina un po' peccato un po' peccato intanto ragazzi il regno del frioli è nato il regno del frioli è nato ammazzati conti ammazzati dalla fatica eh ragazzi non c'ho soldi mi servono adesso ottieni ripresa dalla malattia perfetto è finita anche la malattia spendiamo i punti della corona che credo che adesso non sia messa in discussione la mia legittimità visto che abbiamo formato noi il regno Carl ottiene il tratto umile nostro figlio che è malato giovanotto anche lui è malato prendiamoci un po' di soldi ne abbiamo bisogno no il papà spesi vabbè dai fanculo volevo fondare la fede dopo aver usato i suoi soldi mannaggiamme adesso ragazzi è il momento di fare il più grande passo quello che tutti stavate aspettando ma stavo vicino a 4 ecco per chi mi arriva le notifiche è il momento di accettare i soldi liberare questo creare la nuova fede cristiana e ovviamente si deve fare a tema friulano quindi ragazzi friulan sarà il nome della fede aggettivo friulan perché non so un seguace un friulan un friulan più friulan faccio così e ovviamente dobbiamo fare anche la descrizione allora noi siamo noi siamo liut pold si scrive così il nome vero no se clicco mica aspetta liut pold ok no devo rifare ok mi hai lasciato solo liut pold duca duca del friuli no no aspetta liut pold primo della casa von mok ha fondato il regno del friuli riconosciuto come una grande leggenda una grande leggenda riconosciuto come una grande leggenda un uomo dai tanti miracoli è fedele alla vera fede nei suoi sogni ha visto il futuro e la fondazione fondazione del vero cristianesimo cristianesimo che segue la vera ah no non posso scrivere più le cristiane cristianesimo e vabbè nei suoi sogni visto il futuro fondazione del vero cristiano il friulan non possiamo scrivere troppo ok allora allora partiamo 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 dalle prime cose monaceismo allora noi dobbiamo un po' cambiare è giusto che sia così dobbiamo cambiare un po' a me interessa che noi possiamo fare le guerre sante ai governanti questa fede dichiarare le guerre sante costa il meno 20% di pietà se non esiste il capo di fede puoi dichiarare a noi questo potrebbe anche rimanere effettivamente comunione comunione i versanti possono cercare indulgenza al loro capo della fede pagando oro eccetera e qua possiamo già cambiare perché effettivamente voglio fondare una nuova religione possedimenti in comune gli aderenti quando hanno pietà inviando dei doni ok capo contadino cos'è ah lo fa diventare indennità comunità allora dobbiamo scegliere bene catechismo alessandria rende studioso virtù ok aniconismo in gioco governanti questa fede devono spendere pietà per rifaggiare oppure riparare i manufatti i governanti di queste possono distruggere i manufatti in cambio di pietà tempi in costruzione costruzione eh mica male questo ascetismo i personaggi possono decidere di meditare in un isolamento riduce lo stress e possibili attraverso l'intuizione rende moderato una virtù rende vorace avido festaiolo ah 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 questo non mi piace esaltazione carnale ah questo evitiamo i seguaci possono decidere di porre fino alla loro vita se anziani incapaci o vicino alla morte fare questo non fa incorrere nessuna penalità del suicidio durata tutti i cattolici durata del regno brevo meno 50% avamposti tonici velocità di conversione della contena di un terreno montagnoso scusate velocità di promozione culturale velocità di conversione a contena di un terreno montagnoso rende gigante una virtù tutti i cattolici logamento subito vantaggioso nelle montagne dimensione della terreno montagne minchia questo mica male io lo metterei vediamo questo questo sincretismo orientale le fede orientali sono considerate solamente deviate considera la fede orientale è considerata essere come deviate invece demoniaca bonus reciproco le fede orientali esoterismo i bambini con illusione focus educati possono ottenere il tratto se andano nei studi rende saggio una virtù ok esattazione del dolore non credo che facciano farsa conversazione resistenza alla conversione più tra i personaggi e quando possono ogni tanto riconvertirsi alla loro fede se sono fuoristrada tutti i cattolici esperienza ok no omicidio sacro subocca posizione accolta maestro assassino guardate morta lesione in battaglia no questo lo lasciamo stare gnosticismo considerate altre fedi gnostiche e dualiste giuste invece di ostile o demoniaca non credo che faccia per noi sincretismo islamico considerate le fedi islamiche considerate le fedi islamiche come ostile invece demoniaca poi i manufatti islamici appieno rende generoso una virtù rende avido ingiusto ok non credo che ci interessa legalismo riduce il costo rende giusto una virtù regge ingiusto ok i vassalli e le contee sono meno proposte ad un'istia fazione aumenta il costo delle leggi 10% per ogni peccato che governò i vassalli e le contee sono meno propenze ad un'istia fazione contro un governante virtuoso i vassalli e le contee sono meno propenze ad un'istia fazione contro il governante peccaminoso gli elettori sono una successione elettiva più spese a votare la scelta dei signori se il loro sovrano è giusto rende giusto ah ok questo non è che sia malissimo è possibile dibattere contro gli altri capi al capo di opinione per ottenere o perdere pietà rende i seguenti tratti intellettuali e filosofo e generale è possibile dibattere con gli altri capi al costo di opinione per ottenere o perdere pietà minchia costruzioni megalitiche abilitare costruzioni megalitiche sedimenti tipo tempi dei grandi prendicatori mendicanti veloce di conversione la contee i personaggi di questa fede guadagnano un altro bonus per questo gioco un prelegrinaggio i personaggi di questa fede guadagnano un ulteriore bonus dopo il successivo completamento di un prelegrinaggio rende minchia beh questo non è che sarebbe la pentarchia guadagnano un ulteriore bonus dopo il successivo completamento la pentarchia ricerca del potere guadagnano un caso tipo conquista contro i regni vicini guadagnano che si possono usare invasione una volta nella vita rende ambizioso sleare ok soddisfatto leale ok tutti i cattolici guadagno tirannia costo opinione del vassallo diretto meno 10 però i governanti hanno un caso di tipo conquista contro i regnanti vicini i governanti prestigiosi possono usare un caso di invasione una volta nella vita è proprio solo una volta leggere l'ingio sovrani possono condannare i vassalli peccan peccan allora sinceramente una nascita sagra ok ma la sagra è della natura tradizioni popolassi allora sinceramente quello che mi mi interessa è la pentarchia ok e perché questo qua che stanno possono prendere i voti e diventare monaco però questi due è questo sono questo fa convertire più velocemente le contè ma sai che ti dico i personaggi di questa fede guadagnano un ulteriore bonus per successivo completamente un po' di grange i nostri luoghi sono più luoghi sagri sono le sedi dei poteri dei nostri leader religiosi questo è buono cazzo ma vai dai mettiamo questo dai allora visione sul genere ovviamente dominio maschile è come sempre virtuoso gli aderenti alle altre fede avranno planetà dello primo 200 velocità di conversione con te le contè di fede sono più propense ad eredire la fazione aumentano il rischio no lascia stare virtuoso gli insediamenti tipo tempi sono dati in locazione a prete del reame del processo che poi serve come versallo invece questi governanti controlli i governanti insediamenti e templi ottengono tutti i vantaggi associati ogni devoto seguace è più capace di comprendere e seguire e praticare le dottrine della nostra fede solo i predi autorizzati possono essere incaricati e di sostare le dottrine della nostra fede per estensione di gestire e prendersi cura dei nostri luoghi sacri i governanti secolari controllano direttamente i loro insediamenti templi ottengono io lascerete grazie alla fine che fa succedere un casino allora la posizione di capo della fede è concesso importante ma io declero non ho capo della fede per favore non può scendere sotto il 25 no vabbè lasciamo cavo per spirituale allora incoraggiato questo quasi incoraggiato allora i sovrani se è permesso dalla legge di genere possono avere fino a 4 coniugi avere troppi coniugi comporta una paletà la pietà i sovrani se è permesso dalla legge possono avere fino a un coni i sovrani se è permesso ah questo lo mettere questo lo mettere le concubine le concubine si è un uomo un uomo deve avere più moglie se mia moglie è infertile io piglio del culo e divorzio è sempre permesso mettiamo il divorzio se io voglio divorziare è permesso figli illegittimi non esiste una cosa come un bastardo tutti i bambini sono ugualmente nessuna legittimazione il bastardo non posso essere mai questo lo metterei perché noi apriamo le concubine quindi noi abbiamo si deve rispettare la fedeltà delle donne che noi abbiamo intorno a noi matrimonio questo lo lasciamo così se è possibile relazione tra allora io permetto il sesso tra tutti nessun problema adulterio maschile e accetta no scherzo da evitare da evitare adulterio femminile è sempre crimine è una crimine è un crimine devianza le devianze tra i devianti allora i devianti perdita di stress questo è un crimine per il solito di fede cazzone lascia così lo lasciamo un crimine allora stregoneria stregoneria è accettata nel nostro regno accettata perché comunque non siamo figli di puttana l'uccisione familiare è un crimine da evitare l'uccisione familiare è un crimine è un crimine funzione clerica controllo elemosina e pacificazione reclutamento allora vediamo tutto il clero di fede aumenta del controllo più 20% opinione tasse del dominio reclutami i membri del clero possono aprire come comandante o cavalieri tasse del dominio stesse tasse dei rinforzi della eh porca puttana aumento del controllo eh ma si mettiamo questo dobbiamo fare la fede entrambi i sessi possono diventare matrimonio matrimonio permesso permesso per me donne possono sposarsi possono sposarsi spirito per spirituale tempo per la vita il loro prete derriamo e cappelloni nel prete derriamo e cappelloni mantengono il loro posto a vita spirito ah beh lasciamo spirito per la vita sepoltura con lamentazioni cremazione la terra è un costo d'oro naturalmente ridotto sepoltura a cielo aperto i guadagnanti possono dare a niente una sepoltura a cielo aperto guadagno a pietà compiacente i propri passali l'edificio di Ducato terreni può essere costruito i passali possono essere l'edificio Ducato grande torre dissidenza sfazzare la zella della contea resistenza alle malattie una minchia sepoltura allora o sepoltura del cielo cremazione e se è la fede del loro tutti resistenza alla malattia questo non è malissimo però dai mettiamo cremazione allora gigante è diventato una virtù queste qua sono delle virtù peccati sono lussurioso sadico e vendicativo bene va bene va bene la religione è più storta che potevamo fare l'abbiamo fatta ovviamente colore blu ragazzi creiamo la fede la fede è stata creata l'indipendenza è stata ottenuta adesso ragazzi adesso 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 ah potevo lasciare i cattoli vabbè ho scritto un frilano è più bello un frilano è bellissimo adesso ragazzi vediamo la posizione della nostra fede nel mondo siamo ancora piccoli siamo piccoli piccoli siamo ancora piccoli ma intanto abbiamo completato due obiettivi indipendenza e la creazione della nuova fede nel prossimo episodio e dico nel prossimo episodio vi lascio così scriveremo la nostra leggenda che già sta venendo cantata pellegrino pellegrino del mondo la nostra grande la nostra grande fede friulano vittoriosa sa oddio fede friulano ah no è quello che ho scritto io non è quello che ho scritto semi leggende semi ah semi della leggenda praticamente posso fare quest'altra cosa no vabbè posso fede friulano vittoriosa al prossimo episodio ragazzi seguite